No invece io mi ci trovo molto bene C'è un bello grosso, diobè, vedo tutto Oh no l'aereo no please, no 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 Tu morato dall'aereo Oh questo si è tirato da solo eh Sì ma uno si è preso tanti 48 Oh no 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 sì eh in hima Sì, ce l'ho andato a pressare i danni di stereo Perché mi sono rimasti 30 conti Io sono già a pressare Ah, il problema è che la cascherei Quindi occhio Va bene, va bene, fammi cascare Ma davvero Non prende, non prende il Mars Oh, che cazzo Oh Ok Più o meno Ho preso colpi d'assalto che ci avevo 16 Scegli lo potete Ok, sta gente è fallita Ma va nel panico la gente Eh, sono male Meno male Mi abbiamo ogni tanto Oh, corri Dio, cane Dio Se è figo Ti avisti a fianco a lui Ah, poi vieni qua che ci tiriamo al peggio pallone Vai La fai anche senza server oceania, Fede, la missione Cosa La fai anche senza server oceania Smetti di fare tavolato Che fa? Entra nell'oceania Eh, è proprio un miking Dopo fai del casino, lascia star È proprio un miking C'è la jump? Eh, dopo lo usiamo Dove fa materiale Sono messo malissimo, cazzo Il peggio materiale, fighe Ma poi com'è andata con il coso, lì? Eh, con... come cazzo si chiama? L'avvocato Ah, no, era con la moglie malata ieri sera Alla fine abbiamo giocato con altri Dio beh Ci rigiocherò un'altra fine Allora, vedi, è per il momento di aspettare qua Ma Martin ha eliminato Maxi con una tra... no, vabbè, è successa la merda Ehi, uno ha ucciso un altro e l'altro mentre moriva ha piazzato la trappola e l'ha ammazzato Siamo... siamo ammazzati a vicenda Siamo rimasti otto nemici, eh Eh signori ignori come cazzo sono i nemici lascio l'L4 blu ritengo solo la k o li porto tutte e due come ti pare la k è rotta la k ricordati che se piazzi l'headshot 98 raggiungo al bus scoppiato o ci sono dei cest ah c'è gente che fighta su dest la fia è 18.64 con l'HP no Tanti colpisciai? Io è un po' che no. Morto, 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 morto. Può andare a luttare veloce? Usa la jump e si scappa? Andiamo. Cioè, hai usato... Cazzo, no, io pensavo di usare la jump dopo. Oh, dammi tutto... Pozione, pozione la 50, la pure. Dammi, eh sì. Ah, due pozione la 50. Sti cazzo, allora. Non c'è tanto tempo. C'è gente al cosa, al bus. Sì, sì. Occhio, lei. C'è che se non ti posso dare una mano, eh? Ah, però sono tutti là i nemici. Zona dei bus più alti. Arrivò là un attimo. E dammi un momento che voglio fare... Una mossa un po', Michi. L'ho tramortito con un fuscino. Allora, quello là sul cima e al cima è bianco. Non gli ho levato tutto lo scudo da me. Beh... E io sono più delicato, come amico? Non c'è mio nuovo. E' piatto, bravo! Eh, ma... C'ho 7 torrette, yak. Ah, lì, c'è un bianco. Ah, lì, c'è un bianco. C'è una terra e una terra E' lui, è rimasto uno solo laggiù E' il Tempettaro muore, abbiamo vinto Il piano 2011 Signori, il mio idolo Signori, vittoria reale Epica, con le torrette spalmine Via, questa la salvo, eh Lasciate like, 7 kill, 5 assist 2, 3 kill, 5 assist Esist